completata la prima missione nel passato gameplay abbiamo fatto un gameplay completo ragazzi della prima missione e adesso andremo a giocare alla seconda missione come un buon come i buon vecchi old school tra l'altro questa cosa presa da tu da da doom c'è il m1 episodio evito c'è la missione 1 e il numero dell'episodio perché ogni missione è divisa per episodi ma che cazzo sto dicendo niente ciao vanlock perché perché poi adesso dovrei invitare le persone a mettere un like al mio canale twitch o ai miei social di cui trovate link nella descrizione però perché comunque raga niente andiamo a giocarci la missione 2 di project warlock uno sparatutto new retro ragazzi questo fa parte della creatoria di new retro perché è in vita giusto da qualche annetto devo ammettere ragazzi che project warlock lo provai prima che iniziassi no lo provai l'anno scorso e non mi colpì però ora che lo sto giocando in live con il primo gameplay che ho fatto con l'andare avanti mi mi ha un po mi ha preso un po di più devo ammetterlo che più avanti se siete chiaramente amante degli sparatutto questo gioco dipende è dello stile e vi deve piacere anche molto lo stile perché dovete essere un po' vecchi a scuola un po' vecchi come me vabbè comunque a me ha colpito particolarmente non mi dispiace anzi lo continuo ben volentieri tu l'hai visto ieri questo mello che c'eri quando ci ho giocato? ragazzi vi ricordo che domani inizia alle 3 quindi domani lo so che io la domenica non streamo ma domani alle 22 sarò in live sperando nella sorpresona capcom nell'evento di microsoft e tanto tanto hype per quanto riguarda per quanto riguarda bethesda e doom eterna questo abbiamo letto già ieri non c'eri ieri ok ok ho 7 quindi adesso ci prendiamo questa upgrade che stile si è molto warfare center di eccolo qua ragazzi la missione 2 ah episodio giusto tutto al contrario episodio 2 missione 1 episodio 1 l'abbiamo già finito spero di fare anche tutto il gameplay di questo ah proprio così subito ah con le nevi ci uvesti oh io ho munito alle nevi all'ulto oh io ho munito alle nevi all'ulto oh 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 minecraft levati mmm non nominare minecraft questo è warfare center di nomina quello che è più è più appropriato bello che stanno cambiando anche i nemici oh stanno cambiando anche i nemici oh 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 per via dei pixel eh lo so però ma no questo è più fidati è più Wolfenstein 3D fidate Velloc fidate tu lo conosci Wolfenstein 3D tra l'altro io ho anche una versione Retail quindi il problema proprio ce lo andremo a vedere ok Oh, no. no vol fessa in 3d no no questa è la fine quindi aspetta un attimo c'era un lato che non ho visto no 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 il 3d no, è stato il primo sparatutto della storia ah quello ha aperto il muro che c'era qui, quello è l'unico segreto oddio raga sento caldissimo ah 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 qua ci stanno ok i diamanti come vita e ok ok c'è più niente però potevano metterci un metodo per per vedere a vedere quanti segreti ci fanno la tua la tua la tua la tua la tua la tua Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. 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 io penso che su stimolo prenderò questa che sto giocando io, la versione Goggo offerta gentilmente da Nicarg eh, che non ho 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 bello ci sei domani? vieni a vedermi domani sera alle 10 ah, ho mancato un segreto eh vabbè ragazzi sono in blind run non ho 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 a đâu le sembra da her guarda che domani ci sarà tanta bella roba da vedere se avete dovuto premere a cacchio a a a a Oh Ok se ho l'arma al massimo Molto molto confusionale Sto livello eh Allora Aspetta però perchè c'era un'altra parte di Porte Rosse Ah mi sa che era qua Si sa che era qui Era lì era lì Quì Che si trova dai Minchia due su quattro Ma come cazzo è che non li vedo Vabbè Andiamo A7 Porca miseria Allora 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 Cosa preferite ragazzi Double the gun O questo Però vedo che E questa qua fa doppio danno Quindi Ma no Voglio prima farmi E 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 Un attimo indietro perchè è il segreto ecco La ricarica di mitragliatria... mitragliezza La chiave viola perchè la si finisce il livello quindi... Non si va qua... Non si può tornare più indietro vabbè... Andiamo qui allora... Perfetto Perfetto... Assume reach E Ci E E E E E E E E E Grazie. Dura ne ho presso anche poco. Scusate. 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 Grazie a tutti Grazie 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 Sto vedendo dappertutto eh che cazzo Grazie 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 Sì, sì, sì. No No Quanta roba che si scopre mano a mano eh La chiave gialla La chiave gialla ha aperto qualcosa E come ci siamo? No La chiave gialla La chiave gialla La chiave gialla Puppy Bra bleeding Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per questo ti danno il lanciafiamme. Grazie a tutti. 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 Non si apre nessun buco. Perfetto. No. 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 Grazie a tutti. E ho mancato 6 segreti in quello lì, mamma mia. Facciamo l'opcredito di questo perché fa il doppio danno quindi mi serve. Grazie a tutti. Ok, dovremmo finire la missione. Io guardo ma non invio la risposta, eh, saranno problemi. Antartica, the Great Old One. OUCH! 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 io ho fatta raga minchia la doppia, io l'ho detto che mi serviva la doppia mitraiettice ho detto che mi serviva l'ho sfonnata, è brutto, ma come se esce da qua qui via perfetto ragazzuli sono contento perché perché ho completato anche la missione 2, quindi adesso come prossima missione vi faccio vedere c'è la 3, infatti vedete si è sbloccata la terza missione, poi andremo a farci anche questa qui quindi usciamo dal gioco, come sempre vi ringrazio per la compagnia ragazzi non so se mi state scrivendo in chat, leggo che sono davanti problemi io vi ringrazio comunque della compagnia che mi avete fatto qua, in questo gameplay vi invito a rimanere comunque live, vediamo, sperando che si risolvano questi problemi di chat intanto vi invito ai miei canali, youtube, twitch, dipende da dove state guardando questo video ma i social sono sempre quelli, sia su twitch che su youtube sempre in basso nella descrizione, grazie ancora e mega school la live non termina, quindi continua grazie a tutti